Milano la cultura del futuro di Gianni Biondillo. C'è stato un momento in cui Milano ha creduto di poter dare del tu all'Europa, anzi al mondo, quando cioè ha organizzato l'esposizione universale. No, un attimo, cosa avete capito? Non intendo Expo 2015, l'altra Expo, che Milano ne ha avute due nella sua storia, come Chicago, Londra e poche altre città del mondo, l'esposizione internazionale del Sempione del 1906. Fu lì che Milano fece le prove generali per sentirsi davvero moderna, al passo con i tempi. L'Italia esisteva da meno di 50 anni. Milano, a fine si stava convertendo da città legata al commercio agricolo, a polo industriale. Si freggiava già da qualche decennio di avere la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale, prima di Berlino o Parigi. E fabbriche, ciminiere, tram a trazione elettrica, una cintura di scali ferroviari per trasporto merci che la collegavano al paese e, con il traforo del Sempione appena inaugurato, al nord dell'Europa. L'esposizione del 1906 fu il biglietto da visita al mondo. Fu in quegli anni che nacque il mito della capitale morale. Milano era indiscutibilmente, usando le parole di Giovanni Verga, la città più città d'Italia. Un'orgia edificatoria raddoppiò l'estensione urbana e il numero dei suoi abitanti. Tutta questa passione produttiva aveva bisogno di una nuova narrazione, un nuovo vocabolario, una vera e propria mitologia fondativa. Gliela diede un poeta, Filippo Tommaso Marinetti, che si era da poco trasferito lì. Per la prima volta la cultura in Italia non guardava più al passato, ma al futuro radioso. È a Milano che nasce il futurismo. E non a caso. La città, riconoscente, non ha mai smesso di sentirsi destinata a fare da locomotiva della nazione, pronta a sacrificare il suo passato, visto come farraginoso, d'intralcio, nel nome di un progresso senza fine. E fra i piani regolatori del ventennio, picconi risanatori, chiusura della rete dei navigli interni, ricostruzione post bellica, tracciati di linee metropolitane, Milano è stata per tutto il novecento una città a cantiere. Anzi, era proprio nei cantieri, ritratti continuamente da pittori come Boccioni o nelle sue periferie operaie dipinte da Sironi, che si riconosceva molto più che nei suoi monumenti insigni. Armature, recinti, impalcature, città indefessa. Mai doma, che riusciva a rendere poetico pure un lavoro in teoria pericoloso. Penso alla bellissima filastrocca Luminio della gru di Gianni Rodari, proprio in quanto lavoro, passione, fede nel futuro. Cultura e produzione non sono mai stati termini in contraddizione a Milano. La città ne ha sempre tentato una sintesi. La cultura della produzione significava avere i più grandi editori, i quotidiani più diffusi, il teatro lirico più rinomato, i migliori designer o architetti. La politica no. Mai ha avuto una classe politica di pregio. Se ne lamentava già Carlo Emilio Gadda a suo tempo. Come se a Roma, in Parlamento, Milano ce ne mandasse la seconda scelta, dato che la prima era occupata a progettare e a produrre. E d'altronde, se guardiamo a quelle poche volte che un leader nazionale è venuto da Milano, sappiamo com'è andata a finire. Basti pensare a Mussolini, insomma, o a Craxi e al crollo della prima repubblica sotto i colpi inferti dallo scandalo di Tangentopoli. Ecco, se c'è stato un momento in cui la fede per il futuro ha subito la sua più drastica battuta d'arresto, è stato proprio un quarto di secolo fa. Milano, dopo il 1992, è sembrata assopirsi. Intenta solo a leccarsi le ferite. Sconfitta, senza più cantieri, senza più omini delle gru. Anni bui, dove la paura del cambiamento, delle novità, l'ha fatta da padrona, incubendo gli animi, svuotando la città di oltre 600.000 abitanti. E poi? E poi, come nella sua natura, ha aperto l'agenda e ha segnato una data. Perché, se è vero che la città non ha mai avuto una classe politica adeguata al suo ruolo, è anche perché non ne ha mai avuto per davvero bisogno. Milano va da sola, a prescindere. Se la politica l'aiuta, meglio. Altrimenti si arrangia. Si inventa una scadenza e la fa diventare l'occasione per mettersi, come un corpo solo, in moto. E rieccoci all'Expo. Sì, proprio quella del 2015. La verità, oggi possiamo dircelo senza vergognarcene, è che Milano si è quasi dimenticata del tema dell'esposizione. Era una scusa, bella e buona. Un espediente per rimettere in movimento i talenti, i capitali, le persone, per fare una revisione generale della macchina metropolitana. Marketing urbano, c'è chi lo chiama. Milano, insomma, agli inizi del millennio ha fatti i conti con la sua deindustrializzazione e ha cercato quale poteva essere la sua nuova vocazione. Oggi vuole provare a essere una capitale globale della cultura, della moda, del design, del food, attrattiva persino un po' ruffiana. Capito cosa fare, non c'era altro che farlo. Ed ecco di nuovo i cantieri, ecco nuovamente le gru. Ma con uno spirito più adeguato ai tempi, meno spreco di territorio, maggior attenzione all'architettura sostenibile, alla mobilità pubblica, alla qualità dell'aria, ancora troppo irrespirabile, al verde, sempre snobbato nei decenni precedenti. I pochi nuovi parchi urbani realizzati e i tanti in progetto fanno ben sperare. Molto è stato fatto, molto è ancora da fare. Ma è indiscutibile che se Berlino è stata, alla fine del secolo scorso, il più grande cantiere d'Europa, non è esagerato dire che in questi decenni del ventunesimo secolo lo è diventata Milano. Facciamo l'elenco. Nuova Fiera di Rò, Expo 2015, Porta Nuova, City Life, Linea Metropolitana 5 e la 4 è in progetto, Mudec, Fondazione Prada, Angar Bicocca, senza contare le riconversioni da produttivo, ad abitativo di interi quartieri. Insomma, milioni di metri cubi rigenerati. E poi ci sono le trasformazioni che anche se non si vedono, anche se sono meno spettacolari, incidono in modo determinante nella fruizione urbana. Le pedonalizzazioni, il bike sharing, il car sharing, le start-up, il più alto numero dell'intera nazione, i nuovi distretti del gusto, dai ristoranti allo street food, i nuovi quartieri creativi, il nolo, l'housing sociale. Aggiungerei le eccellenze universitarie, alcune con ranking di livello internazionale e si comprende come Milano, la città sempre più anziana, fatta di pensionati, si stia trasformando in metropoli attraente per i giovani, non solo italiani. È chiaro che se Milano vuole mettersi davvero in movimento, deve riuscire a farlo non lasciandosi dietro nessuno. A partire da quei quartieri ritratti da Sironi, da quelle periferie piene di appartamenti di proprietà pubblica abbandonati, vuoti, spesso occupati abusivamente. Non si fa il salto se non ci si coordina tutti insieme. La città non finisce con la circolazione. Semmai occorre restituire dignità e senso d'appartenenza a un progetto collettivo, a quei quartieri, smettendo innanzitutto di chiamarli in modo dispregiativo periferie, proprio come fu negli anni del boom, quando non importava sapere dove eri nato, ma cosa sapevi o volevi fare. E lo dico a ragion veduta. Io, figlio di una siciliana e di un campano, proprio per questo milanese fino al midollo. Ho vissuto i miei trent'anni nel momento più immobile di una città naturalmente in movimento. Oggi, che sono padre di famiglia, mi sento come un guerriero che ha resistito alle armate dell'oscurità e che ora vede spuntare il sole oltre l'orizzonte. In questi anni, sempre più spaventati dal mutamento, in un'Europa che si sente invasa, sapere, ad esempio che l'emergenza immigrazione a Milano sia gestita tutto sommato bene, nonostante l'inanità del governo centrale, mi fa ben sperare. Milano da sempre ha agito per prima, ha indicato la rotta. Gaetano Salvemini scriveva, quel che oggi pensa Milano, domani lo penserà l'Italia. La riconversione dell'anello degli scavi ferroviari appena messa in agenda sarà il prossimo infinito cantiere meneghino che cambierà la mobilità e il volto urbano. Ricordate? Date una scadenza a Milano e tutto si rimette in moto. Nulla di più tipico, insomma, di tradizionale del mutare continuamente pelle. A pensarci dalle vertigini. La Milano di mio padre, che ancora si tuffava nei navigli da ragazzino, è diversa da quella della mia infanzia. La Milano che conosceranno le mie figlie sarà radicalmente differente da questa che sto vivendo. Quello che resta, che dà continuità, è la Milano dei cortili nobili e silenziosi, delle case borghesi del centro. I piccoli gioielli d'arte sconosciuti, la più piccola cattedrale d'Europa dentro una cella di ciò che resta del lazzaretto di manzoniana memoria. Le 15 case museo tutte visitabili, di scrittori, artisti, collezionisti, architetti e quelle non ancora visitabili, di numero ancora più consistente. La movida dei navigli, rigenerata dalla nuova apertura della Darsena, i quartieri popolari sorti a inizio novecento di una coerenza formale innegabile e poi, sì, certo, ovvio, i monumenti insigni, quelli che tutti conosciamo ma che spesso i milanesi stessi neppure visitano. Le lunghe file di turisti che oggi vedo davanti a Brera, al Cenacolo o al Duomo, sono lì per ricordarci che Milano è, è sempre stata anzi, una bella città. Eppure lo dovremmo sapere da sempre, dai tempi di Bonvesin, della Riva e del suo trattato De Magnalibus Urbis Mediolani. Per rendercene conto basterebbe salire agli ultimi piani del Pirellone o su quelli dei nuovi marcatori urbani, la sede della regione Lombardia, la torre Isozaki, a osservare il panorama. E se poi si è fortunati, se la giornata è limpida e il cielo terzo, la visione a coronamento dell'arco alpino toglie il fiato, come sta capitando a me, proprio ora, sulla terrazza del Duomo. Questa montagna di pietra bianca e rosa nel cuore della pianura, al centro dell'unica metropoli italiana pronta ad affrontare a testa alta il nuovo millennio. Grazie a tutti.